La componente essenziale perché una barca vela possa navigare è la presenza del vento. Quando il vento investe l'imbarcazione da un lato, e sarà il lato sopravento, si dice che l'imbarcazione ha le mura da quel lato. Le vele sono bordate dal lato opposto, ovvero sia sottovento. Vediamo quindi mure a sinistra, vele a dritta. Mure a dritta, vele a sinistra. In alcuni casi, con il vento in poppa, la posizione delle vele può non essere sufficientemente chiara, come quando si tengono le vele a farfalla, fiocco da un lato e a randa dal lato opposto. Per questo motivo le mura sono stabilite sempre, comunque, dalla posizione del boma, lato opposto. L'ondatura è l'angolo formato dalla direzione di avanzamento dell'imbarcazione rispetto alla direzione di provenienza del vento. Prendiamo come riferimento la direzione di provenienza del vento e dividiamo i 180 gradi del semi-orizzonte in diversi settori angolari in direzione di avanzamento dell'imbarcazione, al quali corrispondono le diverse andature. Bordeggio Da 0 gradi a 45 gradi Quando il vento ha un angolo di incidenza con le vele troppo piccolo per permettere l'avanzamento. Bolina stretta Il settore da 45 gradi a 60 gradi Bolina larga Il settore da 60 gradi a 80 gradi Traverso Il settore da 80 gradi a 100 gradi Lasco Il settore da 100 gradi a 135 gradi Gran lasco Il settore da 135 gradi a 175 gradi Poppa O fil di ruota Il settore intorno ai 180 gradi Le andature dalla bolina al traverso si dicono andature strette Le andature dal traverso alla poppa si dicono andature larghe o portanti Naturalmente le andature sono le stesse sia per mure a dritta sia per mure a sinistra Se dobbiamo bordeggiare ricordiamoci che abbiamo un settore di bordeggio di circa 90 gradi centrato sulla prua entro il quale non possiamo avanzare Angolo morto Non ci resta che navigare di bolina con mure alternativamente da sinistra e da dritta Facciamo quindi un percorso a zig zag che risulterà essere circa come lunghezza una volta e mezza di quello rettilineo Parliamo innanzitutto di tre tipologie di vento Vento reale Vento reale È il vento che effettivamente aspira Esempio quello che sentiamo sul viso quando corriamo È tanto più intenso quanto più velocemente ci muoviamo È sempre proveniente dalla direzione verso la quale ci dirigiamo La risultante di questi due venti Vento reale più vento di velocità Ci dà un vento apparente Il vento apparente è un vento che esiste ogni volta che ci muoviamo mentre soffia un vento reale ed è quello che in questo caso effettivamente percepiamo Saliamo ora in barca e rappresentiamo i treventi come dei vettori applicati nel punto dove ci troviamo Si ha presente un vento con questa direzione Si consideri che il vento di velocità è sempre minore del vento reale Il vento reale VR ha il verso che dipende dalla sua provenienza Il vento di velocità VV ha sempre verso opposto al movimento quindi spira sempre da prua Il vento apparente VA è il vettore risultante tra il vettore velocità vento e velocità reale Il vento apparente ha verso di provenienza sempre a prora via del vento reale perché vi è sempre la componente VV proveniente da prora coincidono solo quando VR proviene esattamente da poppa o da prora Il vento apparente ha un'intensità maggiore del vento reale quanto risulta spirale tra 0 gradi e 90 gradi dalla prora Nell'andatura in fil di velocità vento reale e vento reale e vento di velocità sono esattamente opposti e l'intensità di VA è esattamente la differenza fra le intensità di VR e di VV Il vento che colpisce una vela esercita su di essa una pressione che è sempre perpendicolare alla superficie della vela qualsiasi sia l'angolo di incidenza con il quale la colpisce Si può rappresentare questa pressione spinta velica SV con un vettore applicato al centro della superficie velica centro velico CV ad essa perpendicolare Come per ogni vettore possiamo scomporre SV in due componenti perpendicolari fra loro Una componente è la spinta laterale SL di direzione trasversale all'imbarcazione Ha l'effetto di spostare lateralmente l'imbarcazione scaroccio e di farla sbandare Componente di spinta propulsiva SP in direzione del moto in avanti dell'imbarcazione è la componente utile all'avanzamento All'inizio lo scafo si muove in direzione della spinta velica SV Esiste un mezzo per ridurre gli effetti negativi della componente laterale Gli effetti di scaroccio e di sbandamento sono contrastati dalla resistenza offerta all'acqua dall'opera viva Ampliando la superficie della carena aumentiamo maggiormente questa resistenza Trasformando parte della spinta laterale in spinta propulsiva Approfondendo ed appesantendo la carena Inoltre contrastiamo maggiormente lo sbandamento e miglioriamo la coppia raddrizzante A questo scopo si utilizza la deriva che è un appendice applicata sotto la chiglia con diverse soluzioni e forme Troviamo derive mobili a baionetta o a perno Derive a chiglia fissa Deriva a bulbo Ecco che diminuendo il vettore SL Di conseguenza aumentiamo il vettore SP Riducendo l'inclinazione di SV Più veloce si va più si riduce la spinta laterale Vediamo ora come il vento agisce sulla vela E come si può migliorare la componente propulsiva Quando il vento colpisce il bordo dell'inferitura della vela si scompone in due flussi Uno scorre sulla faccia anteriore della vela sottovento e l'altro sulla faccia posteriore sopravento Data la concavità della vela il flusso che scorre sottovento deve percorrere un percorso più lungo Poiché i due flussi devono scorrere sulla vela in tempi uguali Ovvero devono riunirsi al bordo d'uscita Il flusso sottovento scorre più velocemente di quello sopravento Il principio fisico di Bernoulli stabilisce che la pressione di un fluido in movimento è inversamente proporzionale alla sua velocità Ciò comporta che la pressione del vento diminuisce sul lato sottovento e la pressione del vento aumenta sul lato sopravento Sul lato prodiero della vela viene quindi a crearsi una depressione che risucchia la vela e quindi l'imbarcazione in avanti Questo fenomeno avviene correttamente per un angolo di incidenza tra vento e vela tra i 15 e i 30 gradi secondo il tipo di vela Entro questi valori di incidenza il flusso sulla faccia sottovento è regolare e la componente propulsiva maggiore Al di fuori di questi valori il flusso diventa turbolento e la componente propulsiva diminuisce fino al punto dell'interruzione del fenomeno aerodinamico Stallo L'azione del vento è circa uguale per ogni tipo di vela Quando abbiamo arriva sia la randa sia il fiocco il vento agisce su ognuna di queste vele come abbiamo già descritto Esiste però un effetto supplementare nelle andature strette In queste andature si forma un canale tra il fiocco e la randa entro il quale il vento è obbligato ad accelerare a causa dell'effetto venturi e conseguono un aumento della depressione sulla faccia anteriore della randa e quindi un aumento della spinta propulsiva Per questo motivo è importante agli effetti del rendimento una corretta regolazione tra le due vele Abbiamo visto che possiamo navigare a diverse andature e inoltre che la spinta propulsiva dipende dall'angolo di incidenza del vento con le vele Unendo questi due concetti ne consegue che per ogni andatura esiste una corretta posizione delle vele per la quale il vento ha il miglior angolo di incidenza Cambiando quindi andatura è necessario cambiare la posizione delle vele per cercare di mantenere il miglior angolo di incidenza del vento Di bolina stretta è necessario bordare le vele verso il centro dello scafo Si bordano le vele cazzando le scotte Con il termine cazzare si intende tendere una manovra corrente Allargando l'andatura si lascano le vele seguendo la rotazione del vento cercando così di mantenere lo stesso angolo di incidenza Si lascano le vele lascando le scotte Con il termine lascare si intende filare cioè rilasciare una manovra corrente Con il termine orzare si intende portare la prua della barca verso la direzione del vento Quando si orza si bordano le vele Con il termine poggiare si intende allontanare la prua dell'imbarcazione dalla direzione del vento Quando si poggia si lascano le vele Il vento ridonda quando la sua direzione di provenienza si sposta verso poppa Ci troviamo a un'andatura più larga e dobbiamo lascare le vele Il vento rifiuta quando la sua direzione di provenienza si sposta verso prora Ci troviamo a un'andatura più stretta e dobbiamo bordare le vele La superficie totale delle vele a riva si chiama piano velico e il vento agisce su tutta questa superficie Il centro velico CV è il punto del piano velico al quale è applicata la forza totale di spinta del vento Risultante delle forze su tutte le superfici L'opera viva si chiama piano di deriva L'opera viva si chiama piano di deriva E la resistenza laterale dell'acqua agisce su tutta questa superficie Il centro di deriva CD è il punto del piano di deriva L'opera viva si chiama piano velico Quando CV e CD non giacciono sulla stessa verticale si crea una coppia di forze CV a prora via di CD La prora ruota allontanandosi dal vento L'imbarcazione puggia CV a poppa via di CD CV a poppa via di CD La poppa ruota allontanandosi dal vento Quindi la prora va verso il vento L'imbarcazione orza Se consideri ora distinti il piano velico poppiero, randa E il piano velico prodiero, fiocco CD è come fosse il fulcro e i due centri velici da piatti della bilancia Se la spinta nei due centri velici è uguale l'imbarcazione è equilibrata Se nel centro velico prodiero, fiocco, c'è più spinta l'imbarcazione è puggera Se nel centro velico poppiero, randa, c'è più spinta l'imbarcazione è orziera Generalmente tra le due è preferibile una leggera tendenza orziera Che in ogni caso porta l'imbarcazione in posizione di sicurezza con la prua al vento Nelle imbarcazione a vela, albri e vele tendono a portare il centro di gravità verso l'alto Di conseguenza si abbassa il metacentro M Sappiamo che se il metacentro si trova al di sotto del centro di gravità si forma una coppia ribaltante Questa tendenza viene compensata dall'applicazione della deriva Che riabbassa considerevolmente il centro di gravità Si ottiene così una buona stabilità di peso In quanto il metacentro viene a trovarsi al di sopra del centro di gravità Quindi si forma una coppia raddrizzante Per fare una virata si orza fino all'andatura di bolina stretta Quindi si orza decisi per superare d'abbrigo il settore di bordeggio, angolo morto Nel momento in cui il vento passa sull'altro lato si portano le vele sul lato opposto Essendo cambiate le mura adesso si sta appuggiando E si continua a appuggiare fino a uscire dall'angolo morto Quando le vele riprendono a portare si sceglie l'andatura desiderata Nell'eseguire la manovra di abbattuta si puggia fino all'andatura in fil di ruota Quando il vento è esattamente nella direzione di chiglia si passano le vele sul lato opposto Essendo cambiate le mura si orza fino a trovarsi all'andatura desiderata Bisogna fare molta attenzione al passaggio della randa Essendo l'asca quando prende il vento dal lato opposto La randa si abbatte velocemente sulle altre mura e con essa il buoma Che spazza la coperta E' quindi necessario in fil di ruota bordare velocemente la randa al centro Cazzando la scotta e quindi lascarla subito dall'altro lato Una battuta incontrollata è detta strambata